Ed eccoci qua, una buona serata a tutti voi, buon sabato sera, brevissimo video, ultima estrazione del mese di ottobre, quarta classifica, 90 azzeccata una dietro l'altro, le quattro ruote migliori, le quattro ruote top. Venezia, dopo il Firenze dove arrivava il 90 quindi Venezia e Bari, avevo detto o Bari o Venezia perché questo andava a riagganciare Venezia e Bari, non ci credete? Eccolo qua lo schema, ve l'ho fatto vedere ieri sera, il 90 che arriva a Venezia, Bari, non arriva in posizione ma come al solito arriva come strato semplice e come al solito avete messo qualcosa di vostro, visto gli ambi 90 e 72 se non sbaglio, insomma ragazzi stanno arrivando gli scontrini e sabato sera, adesso uscirò con gli amici un attimino, domani con calma rivedremo gli scontrini, 90 arriva a Venezia, ma questo il Firenze lo portava grazie all'ambata contata, quindi Venezia e Bari si va a ravvivare il tutto, stasera il 90, primo colpo arriva su Venezia, questo 90 adesso dovrebbe arrivare a Palermo e questo 90 dovrebbe ritornare, Cagliari-Torino, il Milano va a Cagliari e quindi Torino e questo va a Palermo e quindi bisogna vedere fra Palermo e Genova, una volta tolta la ruota del Venezia, quindi questa verrà eliminata come quella di Firenze, si lascia Roma, Bari-Torino, questa la elimineremo e metteremo o Genova o Palermo, la previsione invece in corso, quella che vi ho fatto vedere di nuovo per il 26 Firenze-Roma, ancora avanti, quindi questa non si tocca, secondo colpo è andato, pazienza è arrivato un 25,90, attenzione a quel 90 di Roma perché può collegarsi con uno di questi o con uno di questi, comunque questa è una previsione aperta, freschissima, quindi penso che l'estrazione dovrebbe essere mercoledì prossimo e quindi vedremo cosa succederà sia per il 90 sia per questa previsione che ho dato qua su YouTube, ragazzi vi saluto, vado a farmi un giro e ci riaggiorniamo domani mattina, mandati scontrini al numero che vi faccio vedere adesso, che lo sapete a memoria, ma io lo metto di nuovo, 351-758-8660, Whatsapp, ci sono anche su Telegram, però è meglio metterli su Whatsapp, 351-758-8660, mi raccomando, scontrini, scontrini, quarto 90, azzeccato, classifica integrale, azzeccata per la quarta volta, questa è lambata contata, divertitevi, buon sabato sera e a domani mattina, ciao ciao ciao!